adesso andiamo a fare il sentiero 1 o quello che chiamano prologo e poi il sentiero che non ho mai fatto che si chiama san macario vediamo non 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 che cazzo a dare padre questo l'hanno cambiato 20 volte e adesso l'hanno semplificato sono arrivato al limite piano piano che settimana scorsa hanno fatto il danno con un bambino praticamente sentiero di san macario invece che andare a can sirago si gira a sinistra e lo si prende da qui una parte la conosco già che scende aizurro ma adesso al bivio invece che scendere andiamo dritti eccole qua a sinistra si scende aizurro diretti e qui invece inizia un trail che io non ho mai fatto questo ma che sembra bello pulito pulito con i salti wow attenzione sponda qua hanno lavorato qua hanno lavorato qua qua non ho idea qua un po si rallenta purtroppo qua polverone buco 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 assurdo era quello famiglia grazie e non lo so interessante il primo pezzo ma non l'ultimo vabbè è un'alternativa il gopro resta video grazie